Il piacere della lettura. Leggere è bello, piacevole e aiuta a vivere meglio. Attraverso la lettura possiamo scoprire nuovi mondi, nuovi personaggi, appassionarci. Per questo ringrazio tutte le scuole e gli insegnanti che hanno partecipato, tutti gli studenti e chi ha organizzato questo progetto. Serendipity è bello e vi invita a leggere ancora di più.